Partita di cartello al comunale di Lugo de Marsi, dove le porte chiuse accolgono il blasone angiziano e il blasonissimo frentano, in un match importante per entrambe. L'angizia deve rilanciare la pedalata dopo la foratura angolana, il lanciano viene da un brutto scivolone in curva e poi ha il castelnuovo davanti che non perde un colpo neanche se lo abbatti. E così la tensione è palpabile ma il match è di livello e lo dimostra anche nel proprio tatticismo esasperato nel primo quarto d'ora quando non succede niente. In compenso i ritmi sono buoni sin da subito, forse per scaldarsi, visto il freddo pungente. La prima azione invece cade al sedicesimo quando Schiphol carica dalla distanza e non trova il palo veramente per centimetri. Il ventiduesimo di Girolamo rende pan per focaccia e si adopera sulla falsa riga lancianese e anche l'epilogo è praticamente lo stesso. Angizia motivata come e più dei rossoneri che cerca di salire di tono e al ventiseiesimo prova a pungere con Fulvi che cavalca sulla fascia ma all'ultimo istante viene frenato da un rimpallo provocato da un tempestivo lucarino. Partita aperta ad ogni soluzione e quando il gioco si fa duro spesso Miccichè comincia a giocare anche a giro come fa alla mezz'ora senza trovare la porta però. Trentaduesimo sale in cattedra Margaiotti dall'altra parte che pennella per di Girolamo anticipato di pochissimo dalla retroguardia ospite. Trentottesimo tiro a giro di Rodia ma ad innocenzo è attento e respinge. L'equilibrio regna sovrano solo un episodio potrà cambiare questo stato di cose e l'episodio arriva al quarantaduesimo quando sempre Rodia rivede corregge e perfeziona quanto fatto poco prima e così porta avanti i suoi che vanno negli sfogliatoi nella migliore delle condizioni psicologiche. La ripresa sarà più elettrizzante con numerosi spunti da ambo le parti ma procediamo per ordine. Primo la sponda aerea su punizione di Miccichè spalanca un mondo davanti a Gragnoli ma ad innocenzo lo chiude. Roba da Goal Line Technology. Dodicesimo episodio controverso al direttore di gara non piacciono i ritardatari e così De Santis colpevole di aver temporeggiato oltremodo su una rimessa laterale viene mandato anzitempo negli spogliatoi. Lanciano in dieci e Angizia che inizia a crederci ma prima di palesarsi ci pensa ancora Miccichè a testare i riflessi di D'Innocenzo al diciannovesimo. Scampato pericolo biancoazzurro e tentativo di Margagliotti al ventunesimo quando il cuoio però decolla lasciando un senso di incompiutezza nel numero dieci marsicano. Ventitreesimo occasionissima per il neo entrato d'Osa che da posizione centrale a specchio scoperto trova la manona di Forti a miracoleggiare. Ventiquattresimo Lanciano un po' confuso che prova a farsi il male da solo ma non ci riesce davvero per poco. Trentatreesimo nel miglior momento locale gli ospiti chiudono la pratica con Miccichè che ha l'illuminazione smista per Gragnoli che non perdona e firma il bisfrentano. Trentanovesimo Mara maldeggia Margagliotti che percorre piste a forza di slalom e arriva pure a traguardo ma Forti è tanta roba e lo dimostra salvando la propria porta. Pochi frangenti e venditti che non è già da calcio di punizione ma l'estremo ospite vuole mettere la ciliegina sulla torta anzi sulla porta e ci riesce da par suo. Finisce qui con Langizzi a recriminare e Lanciano a fare i conti dell'oste che anche stasera però non tornano del tutto. Causa Castelnuovo. Mister Di Pasquale, tre punti importanti ma il Castelnuovo non rallenta? Sì lo so ma noi dobbiamo pensare a noi, noi abbiamo il nostro campionato, i nostri obiettivi e i punti sono importanti per la classifica, per i playoff, per il campionato e noi abbiamo l'obbligo di provarci sempre. Poi se loro non rallentano onore a loro. La partita odierna non è stata semplice? No, molto difficile, sapevamo quale ambiente avremmo trovato, sapevamo contro chi avremmo giocato, l'abbiamo preparato al meglio, dopo la battuta d'arresto di domenica scorsa era ancora più importante oggi fare bene e i ragazzi ci sono riusciti. Gianluca Giordani, la prestazione è di livello ma i punti non ci sono? Penso che la partita l'avete vista tutti quanti, se c'era una squadra sembravamo noi il Lanciano perché abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo costretto una squadra come il Lanciano a difendersi tutta la partita. Purtroppo ci sono gli episodi, ci sono altri fattori che decidono la partita che sappiamo bene, che poi nel dubbio prendono sempre a favore delle squadre più blasonate. E' brutto a dirle queste cose, però questo è, io non l'accetto perché io faccio tanti sacrifici, qui i ragazzi facciamo tanti sacrifici e certi arbitragi veramente lasciano la mano in bocca.